C'è anche Olbia nella classifica delle prime undici località italiane nelle quali vogliono investire i paperoni d'Europa. Una classifica particolare, secondo l'analisi diffusa da Luxury Estate, portale immobiliare leader nel settore del lusso. Olbia si piazza all'undicesimo posto in Italia, dietro località come Portocervo, Sesta e Arzachene in non apposizione. Ma Olbia in questa speciale classifica precede però una città come Firenze. La sfida è quella che riguarda le case di lusso ed extra lusso, come emerge dal report di Luxury Estate. Il portale immobiliare dedicato al settore lusso è partner di immobiliare.it. L'analisi ha indagato in quali località si concentri la domanda dei ricchi europei interessati a trovare una dimora di pregio nel nostro paese. Le prime due città, che senza troppe sorprese sono Milano e Roma, staccano di gran lunga anche Venezia, che è in terza posizione e Como, che è per poco fuori dal podio. Non c'è crisi né pandemia che ostacolino il mercato delle case sopra al milione di euro, come emerge anche dal report realizzato da Reopla, società specializzata in software per i settori immobiliare e Big Data Analysis. La seconda vendita più costosa del 2022 riguarda proprio una villa nel comune di Olbia, in zona Portorotondo, per 15,5 milioni di euro. Su idealista.it, altro sito specializzato del mercato immobiliare, risultano 172 case di lusso in vendita ad Olbia, dal valore di 530 mila euro in su. Si contano anche 18 case di lusso in centro città, con un valore superiore ai 770 mila euro.